Qualche volta mi domando come facevano gli antichi romani a governare con un senato composto da 50-100 senatori, 2000 anni fa, senza tecnologia informatica, senza telecomunicazioni di oggi, un impero che si estendeva per milioni di chilometri di territorio e che mai nessun popolo nei venti secoli successivi è stato in grado di eguagliare.